siamo nella chiesa cristiana evangelica assemblee di dio in italia di parma per il culto salutiamo coloro che attraverso i social ci seguono ci seguiranno leggiamo la meravigliosa preziosa insostituibile parola di dio come la troviamo scritta nella seconda epistola ai corinzi capitolo 12 versetto 1 bisogna vantarsi non è cosa buona tuttavia verrò alle visioni alle rivelazioni del signore io conosco un uomo in cristo che 14 anni fa se fu con il corpo non so ne so se fu senza il corpo dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo so che quel tale se fu con il corpo senza il corpo non so dio lo sa fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare di quel tale io mi vanterò ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze che seppur volessi vantarmi non sarei un pazzo perché direi la verità ma me ne astengo perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me e perché io non avessi a insuperbire a motivo dell'eccellenza della rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne un angelo di satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca tre volte ho pregato il signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia debolezza si dimostra perfetta nella debolezza la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su me per questo io mi compiaccio in debolezze in ingiurie in necessità in persecuzioni in angustie per amore di cristo perché quando sono debole allora sono forte il titolo che vorrei dare alla meditazione di questa mattina è preso spunto dall'ultima frase che dice l'apostolo paolo in questo testo quando sono debole allora sono forte è un paradosso da un punto di vista umano ma i principi spirituali tante volte sono in netto contrasto con i principi terreni umani quando sono debole allora sono forte la seconda epistola corinti è una bellissima lettera perché l'apostolo paolo parla di quelle che sono le sofferenze del servizio perché servire il signore fratelli e sorelle non è una passeggiata in carrozza servire il signore comporta fatica rinunce persecuzioni maltrattamenti bisogna subire ingiustizie cattiverie perché quando noi serviamo il signore lo serviamo fedelmente il nemico con tutto il suo potere si scaglia contro di noi perché egli va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare ma con noi c'è il signore noi siamo dalla sua parte noi vogliamo onorare lui vogliamo fare la sua volontà e vogliamo servire il signore quindi se dio è con noi chi sarà contro di noi l'apostolo paolo qui per la prima volta e l'unica volta narra anche se in parte di un'esperienza gloriosa che lui ha fatto non parla di se stesso ma è chiaro che il riferimento è a se stesso conosco un uomo lui addirittura rapito fino al paradiso fino al terzo cielo per dire delle parole ineffabili che ovviamente l'apostolo paolo non condivide con nessuno perché le tiene nel suo cuore è stata un'esperienza particolare come si diceva venerdì quando le tenebre sono più fitte è lì che il signore ci dà i suoi tesori e l'apostolo paolo qui parla di debolezza e di forza debolezza da un punto di vista umano forza da un punto di vista spirituale addirittura usa l'espressione bisogna vantarsi delle proprie debolezze chi non conosce il signore o chi non vive per il signore si vanta della propria forza si vanta delle proprie qualità si vanta delle proprie gesta il credente invece si vanta delle proprie debolezze perché la lode la gloria va sempre soltanto al signore poi dice quando sono debole allora sono forte e vorrei considerare cinque aspetti delle debolezze umane dell'apostolo paolo riportate in questo testo debolezze umane che manifestano la forza spirituale del signore innanzitutto la debolezza della spina nella carne dice il versetto 7 e perché io non avessi a insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne un angelo di satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca notate di che cosa parla molto probabilmente stava parlando di un problema di salute molto molto grave doloroso ai suoi occhi un qualcosa di dolorosissimo di particolare che accompagnato quest'uomo l'apostolo paolo fino alla morte addirittura una malattia che portava a delle vere e proprie uscite di pus e addirittura lui scrivendo credo ai gallati dice quando voi vedeste la mia infermità non la ebbe a schifo era una situazione veramente dolorosissima e soffriva tanto per questo ma usa delle espressioni una spina nella carne sappiamo quello che fa una spina nella carne quando c'è una spina questo corpo estraneo produce un dolore che non va a diminuire va ad aumentare nel tempo producendo infezione e così via poi dice anche chi è stato l'autore che ha fatto questo un angelo di satana poi anche quello che ha prodotto da un punto di vista morale per schiaffeggiarmi quindi la debolezza umana la malattia la sofferenza il dolore l'umiliazione fratelli e sorelle che tutti noi prima o poi passiamo notate una cosa noi credenti non siamo risparmiati nessuno è risparmiato dai problemi di salute non è vero alla luce della parola di dio che se noi siamo fedeli a dio se facciamo la sua volontà non avremo problemi di salute non non avremo dolori fisici non avremo malattie non è vero non è vero avremo le malattie avremo le malattie avremo le sofferenze avremo i dolori ma gloria a dio perché in quella debolezza umana noi possiamo realizzare la forza del signore la forza che ci sostiene la forza che ci aiuta quando tre domeniche fa il nove mi sono trovato a soffrire per ben tre volte ho pregato dicendo signore gesù ha portato sulla croce anche i miei dolori ti prego tocca la mia vita in questo momento e tre volte ho pregato e per ben tre volte il dolore è rimasto è rimasto era la scheggia nella carne ma gloria a dio perché il signore fa sempre cooperare tutto per il nostro bene perché in quella debolezza umana derivante da problemi di salute che tutti noi come dicevo possiamo avere avremo prima o poi lì possiamo realizzare la forza del signore il sostegno del signore la presenza del signore l'aiuto del signore perché la forza del signore nella sofferenza non ci serve per uscire dalla sofferenza ma per superare affrontare la sofferenza la forza del signore nella sofferenza non ci libera dalla sofferenza ma ci fa superare la sofferenza la debolezza della spina nella carne ma anche la debolezza del no di dio del no di dio dice il versetto 8 tre volte ho pregato il signore perché l'allontanasse da me il no di dio non fa piacere quando a noi dio dice no qui l'apostolo dice che ha pregato tre volte perché soltanto tre non c'è un motivo una spiegazione lui ha pregato tre volte perché dopo tre volte dio gli ha risposto perché dio risponde sempre può rispondere aspetta può rispondere sì può rispondere no in questo caso all'apostolo paolo dio ha risposto no e quando dio risponde no noi realizziamo la nostra debolezza umana il no di dio mette in evidenza le nostre debolezze il no di dio fa sì che noi possiamo considerare continuamente la nostra fragilità perché se dio ci dicesse sì e dio tante volte ci dice sì noi lì riacquistiamo forza anche da un punto di vista umano morale quando invece dio ci dice no allora la nostra debolezza umana rimane perché c'è il no di dio c'è la fragilità umana c'è la debolezza umana ma il no di dio ci fa anche realizzare la forza spirituale la forza del sostegno di dio la forza dell'incoraggiamento di dio la forza della consolazione di dio dio ti ha risposto no la tua debolezza umana si manifesta in pieno per questo no o questi no da parte di dio ricordati che lì in quella debolezza nel no di dio tu sei forte fratelli e sorelle spiritualmente noi siamo più forti dopo i no di dio rispetto ai sì di dio perché quando dio ci dice sì la sua opera il suo intervento la sua liberazione ci fortifica per quello che lui ha fatto quando dio ci dice no il no di dio ci fortifica in modo speciale perché il no di dio ci deve far affrontare la situazione nella quale noi ci troviamo e allora è una forza non derivante da quello che dio ha fatto compiendo un miracolo ma quello che dio fa continuamente sostenendoci perché una liberazione è un miracolo compiuto è un atto miracoloso il sostegno di dio in seguito al suo no non è un atto è una condizione nella quale noi ci veniamo a trovare per realizzare il continuo sostegno del signore il no il sì di dio è un miracolo è un miracolo il no ci mette in una condizione miracolosa è diverso è la forza spirituale nella debolezza umana poi abbiamo la debolezza perché la grazia di dio ci basta la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza notate dio non dice a paolo e a noi questa mattina fatti bastare la mia grazia vedi che la mia grazia ti dovrebbe bastare no no la mia grazia ti basta è un'affermazione dio ci dice questa mattina che la sua grazia ci basta fratelli e sorelle ci deve bastare perché dio fa in modo che ci basti ti basta la grazia di dio a molti non basta la grazia di dio e vogliono il miracolo di dio la grazia di dio è quella che ci basta non il miracolo di dio è la sua grazia fratelli e sorelle facciamoci bastare la grazia di dio in questa situazione dolorosa che tu stai vivendo perché tutti fratelli e sorelle viviamo delle situazioni dolorose difficili particolari e il tuo cuore è lacerato per quello che stai vivendo forse non da un punto di vista fisico da un punto di vista morale familiare e così via in questa situazione fatti bastare la grazia di dio perché perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza notate la potenza di dio che si dimostra perfetta perfetta nella nostra debolezza o quant'è preziosa la potenza di dio è manifestata nella nostra debolezza non vedere la tua debolezza ma la potenza di dio perfetta nella tua debolezza poi la debolezza per la potenza di cristo noi abbiamo bisogno di realizzare la potenza di cristo in modo che la nostra debolezza possa essere messa da parte e non possa più condizionare la nostra vita ma la potenza di dio possa condizionare la nostra vita sapete questa è la differenza tra chi conosce dio e chi non conosce dio tra chi vive per il signore e chi vive per se stesso chi vive per i beni materiali e chi vive per i beni celesti qual è la differenza chi si appoggia su se stesso realizza la propria debolezza e fragilità chi si appoggia sul signore realizza la sua potenza e la sua gloria e questo fa la differenza dice il versetto 9 nella seconda parte perciò addirittura notate come è un crescendo molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su me riposi su me dio dati traduce la potenza la virtù di cristo mi ripari mi ripari mi protegga riposi su di me la potenza di cristo e allora la nostra debolezza viene sostituita dalla potenza di cristo allora la potenza di cristo vince sulla nostra debolezza debolezza dei nostri dubbi debolezze delle nostre paure debolezze delle situazioni nelle quali ci troviamo debolezze dovute alla nostra fragilità umana morale emotiva e così via in modo da poter realizzare la potenza e riposare nella potenza non ti agitare per le tue fragilità trova riposo nella potenza del signore e infine la debolezza è un motivo di compiacimento per questo io mi compiaccio che bello mi compiaccio in in che cosa ti compiaci paolo in debolezze ingiurie necessità persecuzioni angustie per amore di cristo abbiamo abbiamo avremo tanto da dire su queste cinque cause che generano debolezza umana ma che se affrontate nel giusto modo producono la potenza di dio nella nostra vita e tutti noi in un modo o in un altro chi prima chi dopo chi più in un aspetto chi meno in un altro si trova ci troviamo a vivere le ingiurie le necessità le persecuzioni le angustie tutto quello che soffriamo per amore di cristo gesù il signore perché quando siamo deboli allora siamo forti perché la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza non vogliamo dire signore perché mi trovo a vivere queste debolezze umane ma vogliamo dire signore grazie per la tua potenza nelle mie debolezze umane e allora realizzeremo ciò che dice l'apostolo paolo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica alziamoci cari